vado su uno dei titoli di cui sei più innamorato stm ultimamente ha perso posizioni nella mia lista e la mia voce lista allora il timing che ho sbagliato anche stavolta credo cosa fai vado long allora io ho visto l'allungo questo grafico su base giornaliera l'allungo di ieri che ovviamente fa seguito a un movimento già intrapreso dai minimi di questo mese di maggio che insomma ha portato alla violazione di quelle che erano delle resistenze di breve poste fra i 37,55 e i 37,66 e 37,66 proprio il livello dove vorrei entrare in acquisto dopodiché ho messo uno stop a 36,66 e sono tenuto un euro di stop per quanto riguarda il target beh il target l'ho messo in quest'area qui si andrebbe sopra ai 40,58 io ho voluto essere un po' più conservativo e mi sono piazzato a 39,90 per intenderci questo top qui quello del 24 di aprile il ragionamento è se è ripartita da qui ed è rientrato in quella ampia candela di esplosione rialzista che ha caratterizzato la seduta del 25 di aprile voglio che le quotazioni vadano nuovamente a lavorare questa candela e questa parte alta della candela tra questi valori la candela chiude del 25 di aprile a 39,62 la candela del 24 di aprile ha avuto una top a 39,94 quella del 26 di aprile a 40,29 dove mi metterei e ho individuato una sorta di mezzo fra quello del 25 del 26 di aprile in 39,90 questa è la strategia Pietro grazie a tutti